Uno spettacolo incredibile, quello offerto dalla Cascata Grande, la vecchia diga borbonica lungo il corso del fiume Isclero al confine tra i comuni di Moiano e Santa Gara dei Goti, oggi finalmente raggiungibile grazie all'impegno di un gruppo di cittadini di Moiano che per sei settimane hanno lavorato al recupero del vecchio sentiero che costeggia il corso d'acqua. Il sentiero recuperato è stato presentato alla comunità nel corso di una grande festa, iniziata proprio con la passeggiata lungo il sentiero della lunghezza rotale di poco più di due chilometri che da località Tre Ponti conduce proprio alla Cascata Grande. Più di un centinaio di persone sono accorse per dire grazie a chi in queste ultime sei settimane ha lavorato dall'alba per rendere nuovamente fruibile un percorso abbandonato all'incuria. La dimostrazione che dove non possono o non vogliono intervenire la politica e gli enti pubblici possono invece i cittadini, soprattutto se armate di senso civico ed amore per la propria terra. A Moiano, grazie all'impegno di una decina di persone, alcuni degli scorsi più belli del Valle Caudina sono oggi nuovamente alla portata di tutti. Un esempio per tutti, anche per chi governa ed amministra.